In una nota stampa Roberto Chiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della regione Calabria, interviene a sostegno dell'attività di chi contrasta la criminalità organizzata. Secondo le rivelazioni di un pentito di indrangheta esisteva un piano dei clan per uccidere il figlio del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. L'attentato doveva sembrare un casuale incidente stradale, una modalità inusuale per i sicari delle mafie. Questa notizia non può che suscitare sconcerto in tutti noi. Non è il primo caso e purtroppo non sarà l'ultimo per alcuni le minacce vigliacche fanno parte di una sorta di codice non scritto che dobbiamo rigettare e combattere con forza. Chi con il proprio lavoro e con la propria attività si adopera quotidianamente per contrastare la criminalità organizzata merita il nostro incondizionato sostegno, continua Chiuto. Gratteri in questi anni è stato costretto a vivere sotto scorsa rinunciando alla propria libertà pur di continuare ad esercitare la sua attività di lotta all'indrangheta. A lui la nostra vicinanza lo afferma in una nota Roberto Chiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria.